buongiorno buongiorno a tutti certo con sti capelli e fareste dirette non il massimo allora oggi non 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 vi faccio vedere i miei allenamenti ma vi voglio parlare di un po ste mascherine allora io per parecchi anni ho fatto allenamenti nipossia ma che tipo allenamenti non quelli con le mascherine ma nuoto soprattutto apnea sport dove l'ossigeno è limitato e questi che questi sport sott'acqua dove non hai la possibilità di usare l'ossigeno causano quello che è ovvio ipossia e ipercapnia che è questa parola che in tanti hanno imparato in questi giorni ci si riempiono la bocca e a chi sa un po che cos'è ci riempie i coglioni allora quindi recentemente si è detto a non si può correre con la mascherina perché crea problemi di acidosi dovuto i residui di anide carbonica non si può perché crea ipossia e quindi si muore non si respira aumenta appunto l'acidosi del sangue sale il ph e si muore allora anche bere acqua fa morire perché se tu bevi acqua puoi morire no poi morire però per annegamento certo chi può negarlo ma basta tutti lo possono provare non serve un medico uno scienziato che lo vada a testare bere acqua può provocare la morte per annegamento uno quindi la correre con la mascherina fa correre nipossia senza senza ossigeno si muore accumulando troppa anide carbonica si muore e quindi non è possibile correre con la mascherina io vi dirò che allora sono sono tanti gli aspetti che che si possono trattare da tanti anni esistono delle mascherine delle maschere che vanno a creare proprio questo limitano l'ossigeno in ingresso e l'aria in ingresso e l'aria in uscita questo per proprio per creare una maggiore resistenza non è che che servono per simulare l'altitudine insomma sono stati ci sono varie review che parlano dell'uso di queste mascherine per i test in ipossia dove sono stati fatti sono presi sono stati presi centinaia migliaia di test persone sottoposte a studio e si è visto insomma che non è la stessa cosa di andare a fare un allenamento in altura no perché le pressioni passate parte di ossigeno e l'allenamento in altura fa delle modifiche biologiche particolari però vanno a creare una maggiore efficienza mitocondriale perché si è visto appunto che i mitocondri sotto stress che devono lavorare con con allenamento aerobico migliorano il loro funzionamento si è visto che c'è un miglioramento del ph nella gestione del ph del sangue perché ovviamente il corpo deve riuscire a gestire al meglio innalzamento dovuto sia alla concentrazione di anide carbonica sia al lattato presente nel sangue si è visto un miglioramento del lattato e insomma si sono si sono visti questi benefici la stessa cosa che si vede appunto come dicevo prima nel nuoto perché nel nuoto insomma migliorando il gesto e tutto quello che vuoi ma hai una difficoltà anche respiratoria quindi devi adattare sia quella che è la muscolatura sia il gesto sia l'utilizzo dell'ossigeno e nell'apnea l'apnea ancora di più perché rimani per apnea a buon livello per molti minuti senza ossigeno con un accumulo molto alto di anide carbonica ecco è il tuo corpo viene si allena non è che aumenta quando da un minuto in apnea si passa a 5 6 minuti in apnea non è che abbiamo aumentato le nostre capacità polmonari non è che siamo diventati una botte che abbiamo raddoppiato la capacità di ossigeno che siamo in grado di immagazzinare abbiamo aumentato la nostra efficienza al consumo di ossigeno e la nostra resistenza all'anide carbonica che è quella che ci fa venire la fame d'aria quella che ci fa cercare di respirare quando tratteniamo un fiato queste maschere hanno effettivi benefici si è visto che insomma sul sul lungo andare sul lungo termine non portano più benefici rispetto a un allenamento normossico insomma quindi possono essere interessanti come nuovo stimolo per allenarsi perché si sa che l'allenamento viene anche migliora con utilizzando nuovi stimoli nuovi attrezzi noi modalità di allenamento e magari la mascherina può essere un qualcosa che in un momento in cui siamo un po annoiati ci permette di essere di trovare un qualcosa in più per divertirsi e trovare nuovo stimolo la mascherina quella che si dovrebbe usare adesso è così dannosa e così pericolosa certo se te la mangi può essere che può creare molti molti problemi se non la mangi ma la usi per correre per fare fondo lento per fare l'attività che sei in grado di fare non crea nessun problema non so se avete mai provato sempre per migliorare l'efficienza mitocondriale l'efficienza di mi sono segnato un po di parole chiave perché veramente temi sono tanti non so se avete mai provato a correre con il nastro adesivo sulla bocca quindi respirando solo con il naso all'inizio fate 20 metri un po un po alla volta riuscito ad aumentare la distanza fino a fare anche interi fondi di 20 30 chilometri solamente respirando con il naso e all'inizio fate di ciclo avete una grande difficoltà uno perché non riusciamo a respirare non si riesce a respirare due perché non si riesce a gestire l'anide carbonica che si accumula tre perché non abbiamo magari mitocondri efficienti che sono in grado di utilizzare il poco ossigeno che immagazziniamo vuoi anche il tipo di respirazione che non è ottimizzata e non sappiamo respirare bene però allenando tutti questi fattori tra cui anche la capacità di gestire acidosi lattica acidosi da anidride carbonica riusciamo ad adattare il nostro corpo quindi se non riuscite a correre con la mascherina è normale all'inizio ma non è perché state morendo e perché non siete abituati a lavorare in una condizione di sforzo di questo tipo come quando tra virgolette andate a correre oltre 2500 metri comunque sia quanto è dannoso correre con questa mascherina è dannoso se ve la mangiate è dannoso se tutti i giorni fate è dannoso se tutti i giorni fate allenamento ad alta intensità se questi test sono stati fatti facendo anche un'ora di allenamento per cinque giorni la settimana per svariate settimane e ha portato appunto a stabilire dei miglioramenti a livello biologico a livello fisiologico quindi non lasciatevi trasportare da quella che è la polemica da quelli che sono gli analfabeti funzionali da quelli che non si sa che cazzo c'è in testa che la sparano solamente per spararla correre con la mascherina è fastidioso si può fare e va allenato un po alla volta perché è una condizione di disagio per il nostro organismo ma si può fare tranquillamente ok se avete domande scrivetele qua sotto basta che non mi dite che voi siete il preparatore di queste quest'altro eccetera eccetera e poi mi scrivete cazzate ok ciao